pezzi dei cuore benvenuti bentornati sul canale seconda parte ma potrebbe anche essere la finale il finale vero e proprio dell'apertura del box 100 bustine ricordo il prezzo 70 euro ma che scriverò anche in descrizione ma a quanto sembra nessuno lo legge purtroppo vabbè non fa niente io faccio per i picroni poi molto rapidamente un piccolo aggiornamento riguardo l'album cartonato che è preordinabile dal sito primedicola punto it ma disponibile dall 8 gennaio e infine un aggiornamento riguardo le gommaglie eccola qui mi sono preparato questa volta però purtroppo l'inquadratura non è delle migliori eccola qui come funziona da febbraio come scritto qui saranno disponibili delle bustine speciali al prezzo di un euro e 90 con all'interno una maglia random e un pacchetto di una bustina ecco in sostanza questo da febbraio comunque non non abbiate timore porterò tutto in anticipo ok qui sul canale quindi chi non è chi non l'ha fatto ancora consiglio vivamente di iscriversi così da restare aggiornato passo dopo passo poi prima di cominciare vorrei passare ai saluti perché siate tanti a chiedermelo è veramente grazie di cuore a me fa piacere vorrei salutare job pupo 08 francesco schirosi mike street daniele tour giuseppe fiore omar francesco apoglio giuseppe salsano mimo 7 7 7 penso di averli detti tutti i set ok grazie di cuore un bacione un abbraccio obeso penso di aver detto tutto e quindi non mi resta che aprire questo di continuare ad aprire questo box lo sto facendo veramente con molta calma rispetto all'anno scorso che veramente aprivo tutto a manetta uno dopo l'altro quindi direi di cominciare dalla prima e di non fermarmi finché non trovo regalo ormai è la prassi cristiano ronaldo lo dico e lo faccio pure se il video dovesse venire a durare 20 minuti e mamma mia metto la zappa sui piedi metti caso che lo trovo subito vabbè comunque vediamo un po la speciale la speciale la sì diciamo che anche gli stemmi sono speciali quest'anno come ne sono sempre stati ora quest'anno però lo voglio sottolineare ricorda a tutti che il i coupon che troviamo all'interno di ogni bustina saranno attivabili dal giorno 17 12 2018 è quindi mi raccomando partecipate che vale corrente i premi sono spettacolari a mio avviso poi questione di gusti e infine dopo tutta questa miriade di chiacchiere giocatori di ellas verona dai cr7 dove sei fatemi sapere ragazzi come state combinati voi con questa nuova raccolta se avete cominciato se non avete intenzione di farlo perché datemi un motivo magari cercherò di persuadervi Douglas Costa a cambiare idea perché io pure regà sinceramente sto giallo a me non piace è vero dico con tutta onestà però posso chiudere in occhio dai solo perché la panini paolo mazza ammazza e infine calcio femminile azzurri ti è becca e porta a casa ilaria mauro cristiana girelli e daniela sabatino benvenuti nella raccolta panini e non solo anche tra le mie mani poi dai dai su coraggio oh cominciamo bene miralen pianic sinora a getruvat solamente per i drop player mauricardi immobile e io per cui io mi faccio riferimento poi alla copertina dei calciatori e regà perché lo sappiamo che sono tantissimi per esempio mertens non c'è però io lo reputo uno dei veramente dei fuori classi mamma mia della serie a poi 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 ho allenatori rolando maran accidentaccio questo già l'ho trovato nella gift box che tra l'altro regà lo dico adesso non perdete anche il secondo video oggi porterò ne porterò due o maglietta interno ma così quindi restate sintonizzati su questo canale perché ne vedrete delle belle non le tirerò troppo per le lunghe magari alcuni di voi la pensano come me nel senso che veramente cotta e mangiato tutto quanto batti il ferro finché è caldo diemi voglio ripete radu ciaka o diego laxalt cupon a me sta andando via la voce a forza di parlava con me mi do prende una pasticchetta e infine bologna c'è resette e fai il bravo no esci un po esci esci dai e su poi ferrari baie baie come volete belek o belez belez maglietta del parma e infine la filippo in saghi figurina dall'allenatore dai così dai così che abbiamo qui barro un altro vede volora tuminello farias farias ma secco mai manco una manco per sbaglio come mi hanno detto udinese lo stemma e lecce veloce 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 che non vogliamo i campioni veri anche se lo sono tutti però ovviamente sto parlando dei top player faragò maximovic cupon calcio femminile fiorentina e e e e ascoli ma io non sa che c'è ma mi metto qua sennò perdo tempo ogni volta a mettere la mano là vediamo un po vai ovviamente raga io sono da spulciare un po' di robetta non ho resistito o lautaro martinez benvenuto c'è veramente la specie stanno a parte rinco ronaldo che sia ronaldo base ma c'è quella speciale raga penso che tutti la bramano o la bramino vai così il trio fiore e e e e e e la sveruna quindi veramente si riesca a trovarlo chissà quanto quanto può essere la la radità di questa di queste due figurine vediamo un po praet un altro per in pessina e infine padova e brescia il trio un po alcuni di voi già l'hanno trovato a quanto mi è stato scritto nei commenti quindi mi raccomando fatemi sentire che ci siete pure per dimmi quanto sei brutto fatemi a quel paese basta che mi lasciate in commento perché preferisco ai mi piace è crotone e perugia la jesu ma tu stai va bene sa stai a far desiderare troppo vero che ho trovato due film del campionato con cristiano ronaldo mi posso lamentare però cristiano ronaldo non ci credo raga l'ho chiamato perché nel mentre io parlavo e spacchettavo guardavo la copertina veramente eccolo qua l'ho chiamato cristiano ronaldo ma che questa sarà la foto di copertina presa bene lo mettiamo da parte l'irola e il sharawi dicevo che molti di voi già mi hanno scritto che l'avete trovato anche i guai mi piacerebbe trovare oppure essendo dell'inter però non non schifo nessuno nel senso obiettivo toccati quando la squadra è forte quando il carciatore lo è altrettanto c'è veramente raga non tocca fai i finti moralisti ma col cuo bello lo stemma della s roma ok così e il pink e bari bellissimo il pink e vabbè ronaldone eccolo qui amo trovato quello base molto sono alla ricerca di quello speciale secondo voi riuscirò a trovarlo non l'avranno c'è l'avranno inserito nella stesso box entrambi sia quello speciale che quello normale chissà chi vivrà vedrà e soprattutto che porterà pazienza eccolo qui anche la roma femminile e lecce facciamo vedere questi tre volti di questi tre pischelletti vai così guarda che bel casino che si crea ok ho la roba va bene romagna perisic bello coupon maglia del bologna e in palermo va bene mamma mia rega presa bene veramente ora sto cercando la speciale non voglio essere ipocrita da moglie in senso a sti video no che dite voi bremer o joa mario e voglio anzi no voglio non esiste vorrei sapere quanti di voi hanno intenzione di collezionare l'album cartonato di collezionare di acquistare l'album cartonato piuttosto che appiccicare le figurine su quello standard in omaggio che tra l'altro rega c'è pure la copia del collezionista ovvero con il prezzo di 2 euro e 50 sul sul retro è che ora non ho mia disposizione non è una mia disposizione stavo dicendo bene scusate l'impappinamento però l'anno scorso per esempio l'ho acquistato l'ho completato ma poi l'ho venduto per il semplice fatto che ho quello cartonato e con il timbro soprattutto il galliardetto e la medaglia va bene parte le chiacchiere mandragora e infine ammazza che barbutta è caruscio dai e va chi è qua o brian cristante ci sei seculin falcinelli stico buona per un che li potono metta alla fine no in mezzo alle sgodoli crotone foggia e spezia in mezzo alle bolle alle balls adeguè poi mi è stato detto che preferite anche video oltre i dieci minuti quindi ne approfitto subito e le mando per le lunghe blauvic coupon e e a e vai così altri della nazionale a proposito rega vedi le cose le penso ma non le dico che è importante qua dietro quest'anno l'hanno reinserita la carriera al focus carriera bellissima dato che l'ho trovato lo faccio vedere che poi non so quanto veramente valga la pena mettere sul retro perché poi la velina va buttata vabbè era meglio una volta che era inserita completamente nell'album all'interno delle pagine però non so perché hanno preso sta iniziativa poi ter havest poi se la pensate voi me o fatemi sapere così famo una rivolta buonaventura gallo ce l'ho o no non ci credo il fratello simone zaki e e e e dopo un po se ce la faccio i remark eh dai jesu mi piace solo perché sono riuscito a seccare il cognome tosto avrò pure sbagliato allora teodorzic vedete me le esive prego fatemi mi faccio pena mettete mi piace solo per questo santander coupon oh aia laura giuliani saragama e elena linari bene 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 che la già la terza e soprattutto mancante raga io procedo è inutile fermarsi qua veramente finché siamo in ballo balliamo ti è buttamola anche perché se no ci mette un anno per primo cavolo di box poi anche perché vorrei prendere un altro e soprattutto raga c'ho intenzione di mettere uno in premio e mo l'ho detto anzi lo sai che c'è lo dico nel prossimo video che caricherò fra due ore massimo tre ti è leonardo semplici e cosenza quindi non mancate mi raccomando perché c'ho tanta sorpresa per voi e non sto dicendo bagianate che ci avevo qua a un'altra perla alex sandro moretti o pepereina ciao poi cosenza e venezia dai dai così dai così che c'è un altro alla non ci credo sì cazzarolla vabbè metterò nei mucchietti di doppie e poi vedremo cosa farne molto rapidamente raga non me ne vogliate però finché non si tratta veramente di roba seria poteva posso penso posso me lo concediate possa andare avanti così in silenzio lukic o mbregian kurtic via così a che c'è ma qua maglia dell'udinese e foggia credibile ma vero va meno male a me nostro video c'è un senso ho trovato cristiano radolno ronaldo gr7 dai così poi mirallas o mirallas come volete e serie b io direi mi posso pure fermare così eh dai è abbastanza corposo questo video che dite ole caldara questa è la penultima no facciamo la terza ultima raga bastos boga chi è chi è da c'è qualcosa di buono stadio del napoli l'avevo capito subito raga spettacolare mamma mia raga che calore come ce l'ha il napoli a napoli non ce l'ha nessuno veramente bella se dovessi rinascere di carità mamma mia a napoli partenopeo nel sangue fotte sega di quello che dicono gli altri adnan molinaro acqua e sale namamanti chiavo verona o giampiero gasperini perfetto si vocifera addirittura che quest'anno le figurine dell'inter siano un po più rare rispetto alle altre ma sembra così poca roba poi pasqualla silicardi durmisi coupon e un vedi record del parma tre promozioni consecutive questa dovrebbe essere quella una extra e speciale nello stesso tempo bellissima la raga non me so accontentato quindi ora me ne apro un'altra così poi chiudo e concretizza 15 minuti dai vole l'ultima dov'hai ultima bush taina zonzi o me di bene a tia bellissimo questo pacchetto raga o paolo di bala anche lui è qui mamma mia che pacchetto le cave di carità spettacolo proprio e in vine in vine in vine eccole qua calcio femminile o robica ok e perugia ora raga niente male certo non è livelli di cristiano ronaldo però guardate che berduetto che ho trovato a sto giro va bene così raga bassa perché veramente poi va a noio troppo io vi ringrazio per aver guardato il video mi raccomando non mancate al secondo del giorno lo caricherò un po più tardi ovviamente a seconda di quanto tempo ci mette questo un bacio enorme a testa alta come sempre raga e al prossimo video ciao ne